Cari amici telespettatori, un'altra partita perfetta da parte dell'Italia che vince per 3 a 0 con doppietta di Locatelli e gol di Immobile per battere una Svizzera che secondo me è stata difficile da battere perché comunque era un avversario piuttosto rispetto al primo che abbiamo affrontato e quindi credo che insomma ce l'abbiamo messa tutta. La prossima sarà ancora un po' più complicata però sono sicuro che i ragazzi di Mancini ce la metteranno tutta. Detto questo speriamo bene, forza azzurri e come sempre continuate a seguirmi.